Il senatore Gerbez Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'accordo che oggi stiamo per ratificare e che aggiorna i due precedenti accordi del 34 e del 55 stipulati dal nostro Paese con la vicina Austria per l'utilizzo dello scalo di Trieste non è certo da sottovalutare. Esso rientra nello spirito dell'accordo internazionale di New York che prevede la mutua solidarietà, il sostegno, l'aiuto dei Paesi riveraschi a quelli dell'interno dei continenti. Infatti l'Italia ha consentito l'esonero dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva da parte dell'Austria come nella prassi corrente e come previsto dalle posite normative per quanto riguarda il movimento del petrolio che viene immesso nell'oleodotto di Ingolstadt. e parimenti viene ridotta la tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate e questa riduzione stabilita proporzionalmente all'aumento del traffico di merci austriache. è una dimostrazione quindi che uno sforzo da parte italiana c'è stato e quindi le direttrici rientrano nello spirito dell'accordo internazionale che avevo prima menzionato. e praticamente con questa misura i lati negativi del passato accordo sono stati superati e la parte cui il petrolio viene destinato è che prima doveva pagare la percentuale in più sullo sbarco dello stesso ora non è più gravata da questo limite. È un beneficio che il nostro paese si predispone tra l'altro a far usufruire anche ad altri paesi che hanno l'interesse, hanno dimostrato l'interesse di servirsi del porto di Trieste per il movimento di merce analoga e in particolare accordi similari si stanno studiando e predisponendo con la Cecoslovacchia e con l'Ungheria. in tal modo le tariffe del porto di Trieste non sono più esse a determinare difficoltà al passaggio delle merci attraverso lo scalo giuliano ossia quest'ultimo non sarà più limitato dalla competitività delle tariffe portuali nel movimento commerciale come sinora veniva piuttosto il problema è e rimane il costo del trasporto merci in arrivo al porto di Trieste per ferrovia tipo di trasporto questo che a Trieste rimane anomalo sia in rapporto al traffico interno che quello estero infatti mentre in Europa il trasporto per ferrovia raggiunge il 30% nel traffico merci a Trieste è ridotto solamente al 9% tutto il rimanente avviene su gomma il problema dell'utilizzo del trasporto su ferrovia in percentuale sempre maggiore credo si porrà di seguito con sempre maggior forza proprio e attualità proprio nei collegamenti con l'Austria è stata preannunciata infatti di recente da parte del governo austriaco è stato preannunciato che dopo il 1994 non sarà consentito agli autotreni internazionali il transito attraverso l'autostrada austriaca e gli autotreni internazionali dovranno essere caricati su ferrovia questo ci metterà di fronte a problemi nuovi anche e prevalentemente proprio noi sia per quanto concerne il transito degli autotreni attraverso il Brennero e c'è un passaggio giornaliero di 3000 treni secondo notizie diffuse proprio in questi giorni sia attraverso i raccordi stradali ossia i valici del Friuli Venezia Giulia in direzione dell'Austria ora questo accordo offre certamente nuove possibilità a noi all'Italia Trieste in particolare Trieste che ne ha veramente bisogno constatata la gravissima decadenza economica sia industriale che commerciale e portuale per le rate scelte del passato scelte che il pacchetto Trieste con gli investimenti speciali per l'area giuliana non ha sinora certamente risolto sia perché non affronta come avevamo modo di denunciare in quest'aula stessa un anno fa tutta la situazione al fine di superarla complessivamente sia perché a distanza di tanti mesi ancora non è stato dato avvio alla sua attuazione anzi ancora non si è nemmeno chiarito e precisato da parte dei ministeri competenti a quali settori sono destinati gli stanziamenti se cioè anche al commercio quindi ai commercianti e dagli artigiani naturalmente sempre per lo sviluppo delle attività produttive come era nella volontà del legislatore o solo alla categoria degli industriali e ancora il ministero pertinente dopo tanti mesi di attese, di sollecitudini, di richieste non si è espresso, non ha fatto pervenire le categorie interessate nemmeno alle organizzazioni sindacali che lo richiedono e dalle istituzioni che devono poi erogare gli importi istanziati la necessaria interpretazione che consentirebbe di procedere, di dare l'atteso ossigeno a questa città per farla rivivere, per farle diventare un centro competitivo in quel versante orientale del nostro Paese per farla affermare e farle svolgere il ruolo di raccordo sul confine, di ponte tra gli interessi economici nazionali e gli interessi economici dei Paesi vicini con l'accordo oggi in ratifica le possibilità di movimento commerciale attraverso Trieste certamente aumentano e quindi aumentano le possibilità di sviluppo di una zona che abbiamo convenuto tutti in tutte le sedi nazionali, locali, regionali e che è un problema e deve essere considerato un problema nazionale il completamento e la recente apertura dell'autostrada Udine-Tervisio nel tratto di Coccao è certamente un grosso passo avanti e già dei benefici si possono rilevare dalla sua inaugurazione qualche mese fa ma naturalmente questo non basta l'obiettivo competitività è legato a problemi di qualità è legato a problemi di quantità del traffico e il persistere nelle scelte del trasporto su gomma dal porto di Trieste verso l'interno produce conseguenze negative perciò è necessario rivedere i costi e il sistema del servizio ferroviario nel collegamento del movimento marittimo con quello terrestre come d'altra parte è necessario rivedere, liberalizzare e snellire le procedure doganali per le merci in transito completare e rendere efficienti più efficienti di quanto non siano oggi tutte le strutture come il caso del Molo VII e delle rimanenti strutture e perché no imporre la cultura del transito come da più parti si richiede che scarseggia e che spesso non esiste per certi versi non esiste per noi l'Austria come altri paesi europei che gravano su Trieste può diventare un partner di sempre maggiore interesse ma noi possiamo fare tutti i migliori accordi internazionali che vogliamo possiamo prendere iniziative promozionali le più interessanti però se poi non abbiamo gli strumenti adeguati per rendere competitive le strutture di Trieste tutto diventa pressoché inutile ecco perché è importante che il governo che mi sembra sia sparito in questo momento si impegni che si impegni che si impegnino le amministrazioni locali che ci sia una reale volontà politica di superare presto e tutte le difficoltà esistenti e a questo punto chiederei una risposta un impegno concreto al governo in questa sede per il futuro per rendere operante anche questo importante accordo e non farlo restare come tante altre anche lodevoli iniziative e decisioni che abbiamo preso soltanto sulla carta e con ciò preannuncio già sin da questo momento onorevole Presidente il voto favorevole del gruppo comunista Onorevole Relatore lei ha bisogno di integrare la sua relazione? io credo che alcune osservazioni che ha fatta la senatrice Gerberts siano oggetto di valutazione positiva però credo che il disegno di legge e le note di scambio in qualche maniera contengono queste preoccupazioni perlomeno le hanno previste hanno previsto anche la forma attraverso la quale dare adeguate risposte a queste preoccupazioni l'articolo 4 della nota di scambio che ha per oggetto il traffico ferroviario e stradale prevede proprio questo impegno e cioè entrambe le parti si adoperano inoltre affinché la parte delle ferrovie statali e delle OBB vengano state anche nei settori tecnico-operativo e misure per la promozione del traffico di merci attraverso il porto di Trieste e poi io credo che una garanzia ancora maggiore possa essere individuata nella previsione che appunto l'articolo 7 fa della istituzione di una commissione mista che si unirà una volta all'anno per esaminare i progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo di un maggiore utilizzo del porto di Trieste e nonché le altre questioni collegate all'applicazione delle disposizioni di questo e del precedente accordo del 1955 quindi credo che l'atto così come oggi ci viene presentato debba avere la nostra approvazione e il resto già anticipata dalla stessa senatrice Gerberts La rappresentante del governo ritiene di dover prendere la parola Onorevole Presidente molto brevemente prendo la parola intanto per dimostrare che fisicamente il governo è presente a cui si è giunta adesso anche la presenza del Ministro Gullotti io ho ascoltato la replica del relatore con la quale concordo totalmente e nelle assicurazioni e per i chiarimenti che ha dato per gli impegni che mi pare abbia sottolineato che devono essere assunti e realizzati La senatrice Gerberts ha fatto un intervento da me apprezzato credo peraltro che unanimemente possiamo convenire che questo accordo rappresenti un momento ulteriore nello sviluppo delle relazioni italo-austriache che pone fine ad un lungo contenzioso con l'Austria e che soprattutto rappresenta al tempo stesso un riconoscimento della tradizionale e importante funzione del porto di Trieste nell'ambito dell'area Europa centro-orientale ma anche l'economia triestina che deve essere certamente potenziata e incentivata anche appunto nel quadro dei rapporti più stretti e più chiari con la Repubblica Austriaca il fatto stesso che si sia costituita la Commissione Mista alla quale faceva riferimento l'onorevole relatore con l'impegno di riunirsi almeno due volte all'anno significa che in quella sede potranno essere ulteriormente ribattuti i problemi qui sollevati per i quali comunque il Governo nel suo complesso oltre al Ministero degli Esteri conferma la loro viva sensibilità Pongo in votazione l'articolo 1 i favorevoli sono pregati dal Zara Lamano è approvato Pongo in votazione l'articolo 2 i favorevoli sono pregati dal Zara Lamano è approvato Pongo in votazione l'articolo 3 i favorevoli sono pregati dal Zara Lamano è approvato Pongo in votazione l'articolo 4 i favorevoli sono pregati dal Zara Lamano è approvato Pongo in votazione il disegno di legge 1752 nel suo complesso I favorevoli sono pregati di alzare la mano. È approvato.